Al bello della musica c'è presente anche SD Lab, cosa propone ai visitatori questa notte? Salve, quando mi è stato proposto di aderire al bello della musica, una serata come questa, non ci ho pensato due volte a dire di sì, perché siamo una città turistica, è giusto che si creino eventi di intrattenimento per i giovani, per i turisti. Io come SD Lab, essendo un negozio di abbigliamento, ho proposto una selezione dei brand più di tendenza. Quindi mi sono preso i miei 35-40 metri quadrati, li ho arredati come sono riuscito in poco tempo e ho portato una selezione del prodotto che abbiamo in negozio. Sarà sicuramente una bella serata. Deve ancora iniziare, alle 9 entreremo nel pieno della serata, attendiamo tante persone e speriamo che vada bene, dai. Grazie.